buongiorno eccoci con marchino questa mattina fa più convinto vai buongiorno a tutti meglio buongiorno guardate che incanto siamo a scheggino la marchino come passeggia incredibile una bomboniera dell'Umbria guardate che bel posto eh papà bellissimo oh ti vedo carico stamattina scarpa da trekking eh ma lo mi porti eh guardate quanti coccodrilli eh pronti piccoli grandi com'è sta pieno grandi grandi che riconosce questa splendida nazione soprattutto castelluccio guardate che posti anche in Umbria ragazzi sarebbe bello veramente valorizzare di più questa regione veramente perché ce lo meritiamo è un posto bellissimo wow oggi mi sento un po' come te pestifera in riserva con lo sport attaccato sempre un po' di carbonio che top mamma mia super 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 siamo a Norcia ancora e qua ragazzi era sempre pieno di gente di turisti 2016 è passato il terremoto nel 2021 e la situazione ancora è questa dopo ditemi no facciamo perdere va fortuna tu che mi fai fare la dieta eh papà c'è il fortuna tu insalatina healthy sei contento? avevi detto dieta eh? va bene il primo è permesso il primo è permesso e che primo col tartuffino mangiare stati il tartuffino stiamo mangiando un bel primo si e niente quando siete di passaggio passate anche ci sono anche tantissimi altri ristoranti dove potete mangiare noi siamo capitati qua e poi no non va a dire abbiamo pagato perché sennò la gente è anche cattiva quindi l'ho fatta dopo apposta la storia quindi aiutiamo questa gente perché ragazzi qualcuno se ne dimentica a volte anche se abbiamo una situazione bruttissima non dimentichiamoci di chi è stato male anche prima e che non sta passando un bel momento il centro storico è tutto in ricostruzione cioè dicono ma non si sa quando finiranno hanno messo tutti i negozietti qua vedete chi siete scrivetelo qui rispose non serve vale vai non ne vuoi vai 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 tutti insieme vai che dice la lanciata teatro all'aperto teatro gratis aperte tutte le ore tutto fatto così no ma con le donne no no la violenza sulle donne mister dico qualcosa qui filiberto che ha composto una canzone pazzesca adesso che la facciamo sentire dedicata a fa fa ma si intitola palla per te fa 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 è morto in cincilla in sudamerica fa 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 e mo come se a farlo risuscita fa 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 e tutto sotto palla facce toccà e facce toccà sotto palla cia 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 sicuramente da rivedere perché siamo un po' fuori tempo però questo è il teatro alla pelle è arrivato il pubblico delle grandi occasioni stanno tutti qua però bello dai quindi è fa 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 è morto cincilla in sud america fa fa e a mo come si fa a farlo risuscita fa 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 e sotto palla facce toccà adesso toccheremo e faccelo toccà fa cia 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 e non ci pensi più non ci pensi più fa 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 prendi la pasticca blu che non ci pensi più fa 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 faccelo toccà fa fa faccelo toccà e sotto palla fa 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 guarda Cassius Clay vai dietro perché stavolta tenda. Ma io posso passare lì a tutti. Ma io posso passare lì a tutti. Che voleva fa che voleva fa che voleva fà perché voleva fà e voleva fà e vol me tento la capace da me malvedere Questa è una gabbia di Matt che belli però quanto stanno bene ridono scherzano che scialano vita in piazza del mercato eh no non mori mai guarda eh davvero una vita spensierata felice spettacolare teatro alla perda vicino a sto bricocolo spettacolare prima chi ci veniva in piazza del mercato nessuno nessuno a bastia chi ci veniva nessuno neanche i polli ci veniva niente adesso pellegrinaggi da napoli prima torino da tutta italia incredibile incredibile dai bolla ma vengono alla piazza del mercato manco sapevano che è guarda poi come la terra nonno monta con me perché o no nonno chissà perché non c'è molto io ho successo è successo e lei grazie intimissimi di forte di marmi guardate che bello grazie mille stupendo presto verrò a trovarvi a chi è in questa coccodrillo card chi è questo signore chi è un coglione oh come non deve sapere anche fare il braccio tosto è vero visco l'altra da noi braccio mouche mouche vici la tosto è top è tosto io l'ho portato eh filibet l'ho portato la mio mio modesto parco eh questo parco così che vuoi fare ma non vedono tutti e c'è è netta a roma hai visto c'è solo le panchini e c'è calcio non si può dire eh benedì non può dire eh benedìus pobis impotentis deus peccatori bubestemmiorum a me de roma scalzo no però dai anche se è estate no almeno i sandali il teatro all'aperto diurno abbiamo l'anfiteatro notturno eccoci eccoci questo è l'anfiteatro qualcuno si stende con la posa vedete come tiene la pancia c'è tipo un cocomero quando avrai detto a mia vorrò vedere come sarei tu che pancia che c'è ma perché che è? perché che fa? che fa? che fa? che fa? no io lo ho detto che c'è l'ho la parola magica per scaricare ma è magia ragazzi guarda il signorino guarda guarda e via guarda guarda che sta e se si fanno male ma l'ha girata lui? si guarda sempre le donnine come se sgarufano poi se ti dico il titolo di sto guarda guarda quanto è attento guarda 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 quante è attento guarda l'ann'maria si chiama il dio serpente sto film eh? mi hai guardato lì che guarda tre fregni ma ora ora mamma mia